Salve benvenuti appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike94 e ovviamente Football Manager in Italia Siamo qui uno su Football Manager 2016 per continuare la serie e mostriamo le vostre carriere Direi di non perderci in chiacchiere e di andare a vedere subito questa carriera di Giacomo Sacripanti con l'Inter Che ringrazio infinitamente appunto per avermi mandato questa carriera Andiamo subito a bomba a vedere nel dettaglio cosa ha fatto in questi soli due anni Se hai continuato questa carriera facci sapere cosa hai fatto negli anni successivi Ha vinto quattro tofèe, è arrivato due volte in secondo o comunque in finale Andiamo a vedere più nel dettaglio, il primo anno vince la Coppa Italia arrivando secondo in Serie A E il terzo anno fa il triplete vincendo Serie A, Coppa Italia e Champions League Non è un obiettivo facile da raggiungere subito con l'Inter, rifare diciamo il triplete Però ha costruito comunque una squadra molto molto interessante che adesso andremo a vedere Il primo anno appunto arriva secondo in campionato Come ben sappiamo l'Inter non giocava nel 2015-2016 in Champions League e nemmeno in Europa League Quindi si è potuto concentrare solo per la Serie A e la Coppa Italia che poi vince Infatti vediamo però una bella annata comunque, ne perde veramente pochissime Mi sa che la Juve farà ancora meglio Invece in Coppa Italia la vince 3-1 con la Roma con gol di Luan Perisic e Icardi Veramente complimenti, non è affatto facile vincere così tanto una finale con così tanti gol di scarto Invece il secondo anno fa anche lui poche amichevoli o meglio il secondo anno ne fa poche Solo con Siviglia, Valencia e Real Madrid Con la Juve perde la Supercoppa per un complessivo di 3-2 Un po' perché la Juve è fenomenale e un po' perché secondo me era in ritardo con la preparazione Perché appunto fa solo un amichevole, almeno questo è quello che penso io In Champions prende l'Anderlecht, lo Zenit e la Dinamo Kiev E ovviamente supera questo girone Poi acchiappa il Leverkusen che riesce a battere con un complessivo di 2-1 Poi il Bayern Monaco, complessivo di 3-2 Poi il Chelsea e infine il Liverpool che ritorna anche a fare grandi cose Infatti riesce ad arrivare in finale anche se poi la perde per 2-1 appunto con l'Inter Per quanto invece concerne la Serie A direi di andare più a vedere nel dettaglio la classifica Appunto il secondo anno fa ben 90 punti e la Juve solo 77 Solo ovviamente fra virgolette, veramente appunto un campionato assurdo Invece voglio dire l'anno passato ne fa 76, pensavo di più Ne perde solo 4 pareggi, parecchi, 13 E la Juve invece ne fa 85 Quindi un bel campionato per la Juventus che non si è riuscito poi a ripetere nell'anno successivo Poi invece Lazio, Fiorentina, Napoli e Palermo Guardi, tu è Palermo in Europa League Juve, Udinese, Lazio, Empoli e Torino Veramente miracolo dell'Empoli che si riesce a qualificare in Europa League Che invece non abbiamo visto in finale di Coppa Italia con chi arriva Con il Torino addirittura E però lo batte con un complessivo di 4-1 Detto questo direi di andare subito a bomba Nella parte più, diciamo, divertente di questa serie Cioè il calcio mercato Intanto vediamo un'offerta di arrivata per Perisic Di un complessivo di 26 milioni e mezzo Mei coglioni Comunque, storia dei trasferimenti Il primo anno chi compra? Luan del Gremio Un giocatore molto molto interessante Che più volte anche io ho visionato Se non sbaglio per il Wigan Poi Lucas Romero Un altro giocatore fortissimo Steven Taylor Un difensore niente male Soprattutto per quella cifra così bassa Loftucic dal Chelsea Un altro giovane Che a quanto pare molti di voi ci credono Però poi non è che sia questo Perché già in un'altra carriera L'ho visto però Non è poi questo giocatore così eccezionale Come diciamo a FIFA Poi Dieguito Falcinelli Che secondo me come attaccante di riserva Non sfigura O comunque come terza scelta Il mitico Bakayoko Un grandissimo centrocampista Che abbiamo avuto anche noi nel Wigan Gioà Cancelo Un terzino destro Che veramente è molto molto valido Che stavo visionando anche io devo dirlo Per il Massiglia però Eh sì per il Massiglia però Mi hanno chiesto Se non sbaglio 23 milioni E poi Bernardeschi A 23 milioni esatti Un centrocampista offensivo Veramente molto molto valido Che abbiamo potuto vedere Con l'Eibar Quando ancora non era così forte Vende Palasio al Monaco Per 2 milioni D'Ambrosio a 5 e mezzo Pensate che D'Ambrosio Nella carriera con Marsiglia Vogliono 9 milioni e mezzo Quindi Bei soldi La Nokia addirittura A 7 e mezzo Nagatomo per 8 milioni Poi vabbè diversi pezzi Di Medella a 7 e 25 Dodò a soli 3 milioni Guarino a soli 4 milioni E poi Davide Santon A 7 e 25 Davide Santon Anche lui oggetto del mistero Era veramente un terzino Molto molto promettente Però poi chissà Che cosa è successo Poi come acquisti Prende Teyes Un terzino veramente fortissimo Che abbiamo avuto anche noi Nel Wigan O meglio Lo riscatta C'è Montoya Anche lui riscatta Un altro terzino Veramente molto valido Gustavo Gomez L'acquisto del Milan Che Stavo Per Diciamo Per prendere anche io Al Marsiglia A posto di Schar Però Lui è extra comunitario Quindi Ho preferito Schar E poi mi sembra anche Leggermente più forte Comunque Gustavo Gomez È molto molto valido Speriamo che lo sia anche Nella realtà Eric Dolgoyas Che non conosco Però sembra un giocatore Veramente molto valido O comunque sulla carta Poi potenziale un po' bassino Però comunque sulla carta Sembra valido Papadopoulos Ottimo Nacho Dal Real Madrid Lo scambia 14 milioni Più Taylor Colasinac Ottimo Lo conosciamo benissimo Per la nostra carriera Con lo Schalke Iborra Dal Sevilla 11 milioni e mezzo Comunque un buon difensore Non giovane Ma niente male Nicolino Leale A 15 milioni Me coglioni Considerando che si poteva Prendere a parametro zero Diciamo che questo acquisto Non lo condivido molto Dragovic a 38 Li vale tutti È un difensore Veramente assurdo Begovic E Coyet Dall'arsenal De Sarandi Non lo conosco Questo Coyet Però non sembra Insomma Senza infame E senza lode Per quanto invece Concegne le cessioni Murillo a 29 Miranda a 14 Juan Jesus A 13 Brozovic A 10 milioni Al Sevilla Bia Bianila Axalto Andreoli E poi vabbè Dieguito Falcinelli All'Eats All'Eats Scusate All'Eats United E devo dire Che ha costruito Comunque una buona squadra Non si può dire Niente Ovviamente Non si può essere D'accordo Con tutti gli acquisti Begovic In porta Stavo vedendo Più che altro Andanovic Si è ritirato Ma si è ritirato Giovanissimo Minchia Poi vabbè Colasinac Gomez Dragovic Montoya Romero Con Dobbia Perisic Luan Bernardeschi E Icardi Veramente Una squadra Veramente Molto Molto Valida Con la quale Riuscire appunto A vincere La Champions Lo Scudetto Leali Papadopo Scanselo Ibora Bakayoko Camara E vabbè Samuelino Longo Come sostituto Ma poi c'ha Teyes Insomma c'ha veramente Un sacco di giocatori C'è Nacho Quindi La squadra c'è Non c'è veramente Nulla da dire Una buona squadra Sicuramente Forse con la tattica Sarà Riuscito poi A vincere la Champions Perché Ovvio Secondo me È uno step indietro Rispetto a Che ne so Real Madrid Barcellona Però probabilmente È stato bravo Lui a gestire la squadra E appunto Poi con le istruzioni Con la mentalità Eccetera È riuscito poi A vincere A fare il triplete Insomma Le istruzioni sono queste Come sempre poi Ve le lascio Nel caso Vogliate provare Questa Tattica Che a quanto pare È vincente Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Ripeto A Giacomo Nel caso Facci sapere nei commenti Come è andato Come sono andati Gli anni Successivi a questo E come sempre Se te vi piace Commentate Condividete Fate tutto ciò Che vi pare Ringrazio Un'altra volta Giacomo Anche se già L'ho nominato E come sempre Un saluto A Micro94 Ovviamente Football Manager Italia Ciao ragazzi Ah ragazzi A proposito Come sempre Se non vedete La vostra carriera oggi È perché ce ne sono tante Prima Pensate che questa carriera Mi sarei mandata A metà maggio Quindi Pensate un po' Ciao ragazzi Ciao ragazzi